4. Plenitudine assoluta. Scuola del cerchio Firenze 77. Attraverso Roberto Setti. Dizionario del cerchio Firenze 77 a cura di VB. Campis. Se pensate che sia inutile cercare di aiutare i vostri simili perché comunque voi facciate le cose andranno come scritto che vadano vi dico che in ogni caso una cosa importantissima verrà a mancare quella per la quale tutto esiste e vive per la quale si succedono i giorni le vite e le storie la vostra coscienza quella coscienza che è la manifestazione di un Dio nell'essere e in forza della quale esistiamo e per mezzo di cui nulla infine può rimanerci estraneo dandoci essa la plenitudine assoluta.